Buongiorno a tutti, sono Enrico Ostidic, Marketing di Kong e siamo presenti oggi all'Outdoor Business Days per presentare la nuova linea di prodotti Lario. È una linea di prodotti concepiti per la Falesia e per la Ferrata composta da due modelli di Bragature. Lario 1 è la versione con una sola fibia con scialli fissi Lario 4 invece è la versione completamente regolabile con due fibie in vita e due scialli regolabili. Inoltre presentiamo in abbinamento con queste due gambe cromatiche i set di rinvii che sono i nostri collaudati trapper però dotati di una fettuccia ergonomica sciancrata in due lunghezze, 12-17 cm in abbinamento al porta magnesite lo stesso colore e al casco Leaf che è un prodotto già conosciuto che oggi proponiamo in due colorazioni nuove per avere i kit abbinati. A completamento di questo presentiamo due nuove versioni del nostro set da Ferrata il medale 360 che è composto da un dissipatore di energia un po' più compatto rispetto al modello precedente ed è dotato di un girello che evita l'attorcigliamento oppure nella versione base diciamo che è lo stesso modello senza il girello. Questo è quanto ci fa piacere essere tornati a fare delle fiere outdoor dato che era un po' di tempo che ci dedicavamo principalmente al mondo del professionale del suo corso del lavoro e passate a trovarci e grazie di tutto. Tra l'altro questo set da Ferrata io lo sto provando e presto presto uscirà anche la recensione.